Ciao ragazzi, oggi siamo qui sul canale TheFrenchWall, qui a Milano per registrare un video speciale di Halloween Con i TheShow, esperimento sociale horror che non immaginate nemmeno ragazzi In esclusiva qua sul canale TheFrenchWall Ciao vabbè Non c'è un cazzo da fare, puoi ascendere No appunto, tra l'altro Stato un po' tranquillamente Che cazzo è? Oh, è una scherza, è una ripresa Come uno scherzo? Che cazzo è lo scherzo? Ma che cazzo li prendo? Oh puttana Oh, ma porca Cazzo è lo scherzo Dove? Dove? Azzocca, dov'è? A guanda a costa A guanda a costa Calmati Oh Ma sei tu? Che cazzo hai fatto? Perché li hai ammazzati? Ma che cazzo fai? Ma sei scemo? Stai a città L'esperimento sociale Ma stanno sopra il cazzo Va fan Marco, un'ascia di sangue Sarà sicuramente il caso di seguirla e vedere dove conduce Per soddisfare la nostra curiosità È proprio sicura È il caso Proprio sicura E seguiamo Pronto? Pronto? Tra sette giorni morirai No, non ci interessa Noi abbiamo fatto Ci troviamo bene Non si preoccupa Arrivederci Sarà Sarà Ma c'è un po' C'è mai niente in televisione Telepapis Telepapis Fanno Hai sentito? Un rumore sospetto E che cos'era? Era un rumore sospetto Ma secondo te è il caso di andare a controllare? Sì, assurdamente Andiamo per forza Non è che lasciamo i rumori Sono aspetti a girare così per caso No, è il caso di andare a controllare Andiamo L'assassino ha staccato il telefono Bastardo No, è che mi serviva questo pezzo Giovane Ma perché si è spenta la luce? Ah, giusto Mordo L'assassino ci sta inseguendo Cosa facciamo? Sarà sicuramente il caso di dividersi Sì, sì Giusto Giusto Andiamo Non parte Non parte Perché non parte Maledizione Dove sei? Sei giovane Fai pari a me Fa Dai 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 Grazie Ciao Aiuto Aiuto Aspetta 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 Aspettiamo A due Aia No Ma no Pa Qua il 31 ottobre Ad Halloween In Italia Ci si traveste È bella Sta la festa Tutti qua Si travestono da mostri Cos'hai? Mostri Che bella Da mostri In generale Da femmini Invece Da zoccole Da mostri Zoccole È una cosa particolare Ciao Dolzetto O che zetto Strana Italia Oh no C'è un apocalisse Zombie Si stanno trasformando Tutti quanti Parco Non è successo Niente Ho già trovato Su youtube Il tutorial Di come diventare Un essere umano Abbiamo risolto Tutto Non c'è bisogno Ti aggredisco Non c'è bisogno Che mi uccidi Tutto a posto È sbagliato Tutto 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 Grazie per la visione